Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come sbloccare il dungeon segreto in sale di alto blocco in Minecraft Dungeons. Una volta che avete finito il gioco, riavviate questo livello, all'inizio proprio praticamente del livello. Una volta che arrivate qui, adesso vi mostro anche la mappa, ma praticamente all'inizio, interagite con questo scudo e come potete vedere sbloccherete l'accesso al dungeon. Quindi, come sempre, raccogliete questa sorta di pergamena e vi ritroverete il dungeon segreto nella mappa del mondo. Infatti, ritornando all'accampamento e consultando la mappa dei livelli, noterete il nuovo dungeon pronto per essere completato. Adesso ve lo mostro dopo il caricamento. Come vedete, attivando la mappa, qui è stato sbloccato il dungeon segreto chiamato Sale Sotterranee. Grazie. Grazie.